L'appuntamento di questa settimana di Tra le righe incontro con l'autore è un appuntamento che ha il sapore di una vita vissuta alla luce della spiritualità di Padre Pio da Pietrelcina. La vita è quella del dottor Giovanni Grif a cui è dedicato questo libro intitolato Il medico della gente, un amico di Padre Pio, Aletti editore, autrice di questo libro, sua figlia Luisella. Ciao Luisella, benvenuta. Grazie Paola, grazie mille dell'invito. Hai scelto di raccontare la vita di papà in maniera molto poetica, personale, mettendo nero su bianco, scrivendo appunto questo libro. Com'è nata l'idea? Probabilmente è un mio bisogno personale di ringraziare mio padre per tutto ciò che ci ha donato nel corso della sua vita. Quindi io lo definirei un gesto d'amore nei suoi confronti, una forma di ringraziamento, ma anche un desiderio non soltanto mio, ma anche della mia famiglia, di avere memoria del suo passato, del suo percorso di medico che ha effettuato per oltre 50 anni, di medico scolastico, di ufficiale sanitario e naturalmente di papà meraviglioso per tutta la mia famiglia. C'è una frase molto bella di un oncologo, Umberto Veronesi, che in un'occasione disse bisogna voler bene alla gente per fare il medico, per essere il medico. E il dottor Giovanni Grifa ha incarnato appieno questo voler bene alla gente. Lui non si è mai sottratto, era sempre il medico del consiglio giusto, al momento giusto. Tu racconti anche di quando regalava le caramelle, le calecche ai bambini per intrattenermi, sai, gli studi dei medici non sono un posto molto piacevole. Quindi hai fatto emergere proprio questo aspetto umano. C'è un altro passaggio molto bello del libro in cui racconti l'incontro tra papà e mamma. Quindi tra un pugliese, un garganico e tua mamma, Anna Maria Sarda. Quindi questo incontro è avvenuto a San Giovanni Rotondo, a pochi passi possiamo dire dal santuario di Padre Pio. Infatti, mamma all'epoca aveva 17 anni, la sua famiglia era fedele di Padre Pio e decisero appunto di venire a San Giovanni in visita al santuario. Casualmente, se il caso esiste, ma non credo che fu quello nell'occasione specifica, incontrò mio padre che quel pomeriggio era a casa di mia zia. Si guardarono e forse qualcosa era già nato o era già predestinato tra di loro. Si persero di vista, dopodiché mio padre si iscrisse alla facoltà di medicina e chirurgia a Cagliari. Quindi, nuovamente, un secondo incontro, anche in questo caso non credo fosse fortuito all'epoca, per cui poi decisero appunto di continuare la loro storia. E così è nata una grande famiglia, poi si sono trasferiti, hanno messo radici a San Giovanni Rotondo, appunto alla luce, all'ombra della spiritualità di Padre Pio. Che cosa, papà è stato medico ufficiale e sanitario qui a San Giovanni Rotondo, ricordiamo che è presente anche negli ultimi istanti di vita di Padre Pio, quando Padre Pio appunto morì, lui era lì presente, venne chiamato anche in occasione dell'esumazione del corpo del santo. Che cosa vi ha raccontato di Padre Pio, di questa comunque sua esperienza a fianco al santo? Sì, papà ne parlava spesso, ma sempre con molta umiltà, quasi con una forma di gelosia. Lui raccontò della telefonata, della corsa veloce al convento e poi della venerazione che aveva nei confronti del corpo del santo. Era attitubante a violare quel corpo che appunto era già santo e anche nell'effettuare le varie operazioni scientifiche, mediche, lo fece tenendosi un pochettino indisparte, sempre con molta tranquillità, con molta serenità. Quando poi tornò a casa, la cosa particolare che disse è che gli aveva potuto accarezzare il volto e quindi aveva toccato la sua barba e le sue mani, questa cosa l'aveva segnato e spesso appunto ci raccontava di questo bisogno che lui stesso aveva avuto di avere un ultimo contatto con il santo e ce lo trasmetteva spesso, soprattutto nei momenti di difficoltà, ci diceva sempre abbiate fede, non perdetevi d'animo, Padre Pioveglia sempre sulla nostra casa, sulla nostra famiglia. Che bello anche questo. Io ricordo che una delle ultime, come dicevi tu, non era molto disponibile a raccontare, ad aprire il cassetto dei ricordi. Un'ultima intervista, la rilascio almeno per quanto ci riguarda, in un programma radiofonico che all'epoca eravamo anche radio, andò in onda appunto su Teleradio Padre Pio, era il 2001, ci raccontò appunto di questa sua vicinanza a Padre Pio. Ecco perché il titolo Un amico di Padre Pio è medico della gente. In copertina c'è una foto in cui appunto già abbastanza saggio, anziano, il dottor Grifa, con tra le mani una foto che è quella che sicuramente lo scatto, se non sbaglio, di giorno dei funerali di Padre Pio o in quelle giornate tra il 23 e il 26 settembre del 1968. Guarda con quanto orgoglio, ma allo stesso tempo anche umiltà tra le mani questa foto. All'interno del libro ci sono due poesie che è dedicato a papà. Ci vuoi regalare qualche verso? Volentieri. Angelo vestito di bianco Lo smeraldo degli occhi fondeva brillante, scintille di cuore, lacrime e spirito. Tutto mesceva quel liquido verde che ti condusse al tuo amore di ieri e di sempre. Il verde di foglie sfiorite che un autunno meschino risperdeva nel vento di un dolore profondo. Quel verde che in un sollievo fuggevole ridonnava al tuo tenero volto intelligente eronia, regalo per noi di fugaci sorrisi. Un cerchio di amore ti ha circondato, quell'ultimo istante nella medesima ora del tuo uomo, d'assaio marrone. Occhi e mani ti hanno serrato, scaldato e protetto, per impedire a quel soffio di vita di volare per sempre in cerca di lei. Che bello, complimenti davvero anche per queste parole così sentite. Questo è un omaggio che una figlia ha voluto fare al padre. Ecco, questa è la foto di cui vi parlavo, quella che ha tra le mani il dottor Grifa in copertina. Guardate, tra un po' la regia le inquadrerà. E questo è il dottor Grifa. E qui, padre Pio, già appunto parliamo del 25 settembre, cioè la data nel convento di Santa Maria delle Grazie. Quanti figli siete, Luisella? Sette, una famiglia numerosa. Famiglia numerosa, all'epoca c'erano tante di famiglie numerose. E qualcuno ha seguito le orme del dottor Grifa, è diventato medico? Sì, i miei primi due fratelli sono entrambi medici. Giorgio, il primo, è proprio medico di famiglia seguendo il percorso di papà, mentre il secondo lavora in casa sollievo. In ogni caso è legato in qualche modo all'opera di padre Pio. Credo che per loro sia un percorso bello ma complicato insieme. Seguire le orme di una figura grande a volte può essere pesante. e quindi si sono fatti carico di un esempio complicato, ma bello allo stesso tempo da seguire. Bene. Entrambi i medici, quindi tu sei l'ultima di casa, quindi comunque hai potuto seguire il rapporto tra i due figli che hanno deciso di seguire le orme del padre. E se non sbaglio, Giorgio il più grande, in un'occasione raccontò di aver seguito il dottor Grifa, appunto suo padre Giovanni Grifa, nelle scuole per fare i vaccini. Quindi anche in quel caso si sentiva, immagino, molto orgoglioso. Infatti. Anche perché aveva a che fare con bambini piccini, quindi sicuramente c'è bisogno di maggior tatto, di uno scrupolo in più nei loro confronti. E tra l'altro io stessa fui vaccinata da papà a sorpresa, nel senso che quella mattina entro in classe e disse che era la giornata delle vaccinazioni obbligatorie. In quella classe c'era anch'io, quindi orgogliosa, felice, paurosa allo stesso tempo della vaccinazione. Però sono ricordi che ti rimangono davvero impressi nella memoria e che è bello raccontare, perché i nostri figli devono appunto conoscere che gli esempi da seguire sono importanti per il loro percorso di vita. È proprio così. Posso chiederti un aggettivo, anche se ne detti tanti, però un aggettivo per definire tuo padre. Diciamo dai, come padre e anche come medico. Come padre, severo e comprensivo allo stesso tempo, non giudicava mai, dava sempre consigli e ti lasciava libero poi di fare ciò che ritenevi più giusto. Come medico, simpatico, perché quando entrava nelle case dei suoi pazienti la prima cosa era fargli sorridere per portare un pizzico di gioia. L'allegria, la serenità aiuta anche la cura delle malattie, a volte tanto quanto la medicina. E poi disponibile. Io mi ricordo di papà che ad ogni ora la sua frase era torno subito, in realtà poi tornava dopo ore, però tornava sempre soddisfatto, sereno, felice, davvero felice del suo impegno. Non era un lavoro, ma era un impegno di vita. E so anche che tre pronipoti hanno scelto di seguire la sua strada, quindi di diventare medici. Anche questo sarebbe sicuramente orgoglioso di loro. Come dicevo, questo non è il primo libro che hai scritto, hai scritto anche altri racconti dedicati anche a bambini? Soprattutto. La cosa che mi piace di più, in realtà il primo contatto con la scrittura è derivato da una poesia. Io ritengo che la poesia sia benefica, sia un balsamo per i momenti complicati, e come la preghiera ti aiuta a vivere meglio la realtà quotidiana. Sicuramente la preghiera ha effetti superiori, però anche la scrittura fa bene. È terapeutica. Sì, è terapeutica, esatto, infatti, esattamente così. La scrittura è terapeutica, così anche la poesia, ma credo che è terapeutico sia anche leggere belle storie come quella che racconti in queste pagine del libro Il medico della gente, un amico di Padre Pio dedicato al dottor Giovanni Grifa. Sicuramente chi ci segue da San Giovanni Rotondo lo conosce, già sa di chi stiamo parlando. Chi ci segue dal resto d'Italia avrà la possibilità di conoscere una figura davvero preziosa come uomo, come padre e come medico. Aletti, editore, firmato da Luisella Grifa, che ringraziamo per essere stata con noi in questo appuntamento dedicato ai libri, ai consigli di lettura. Grazie ancora. Grazie a te Paola. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.